Sono Enrico Amadei, lavoro per Logos Edizioni, la casa editrice è nata 25 anni fa più o meno, da 10 anni ci focalizziamo soprattutto sull'illustrazione per ragazzi, per adulti, per bambini. Il libro di punta può essere questo di Mattotti, il nostro autore di punta, che tra l'altro ha vinto anche il premio della giuria Luca Comics, questo è uscito ad aprile. Cerchiamo di dare continuità ai nostri autori migliori, i quali Roger Olmos, Lorenzo Mattotti, Gabriel Paceco e Roger Olmos. Grazie a tutti.